Si riaccende la speranza per 100 dei 218 dipendenti dell'Agenzia regionale di protezione civile. I sindacati hanno infatti sottoscritto l'accordo transitorio che consente la riassunzione di una parte dei lavoratori licenziati e dunque di riprendere le attività dell'Agenzia letteralmente paralizzate a causa del licenziamento progressivo e completo di tutto il personale che era stato assunto attraverso il cosiddetto concorsone. L'intesa è giunta al termine del tavolo tecnico convocato nella sede dell'Agenzia alla presenza del direttore generale Emidio Mastronardi del consigliere delegato Salvatore Ciocca. Si tratta di un primo passo, hanno detto i sindacati, per risolvere un'avvertenza che va chiusa in via definitiva ma per tutti i dipendenti. Abbiamo condiviso il criterio per la riassunzione dei precari della protezione civile che deve seguire l'ordine della graduatoria e abbiamo chiesto con urgenza la riattivazione di un nuovo tavolo per discutere sia dei lavoratori che dovranno occuparsi della microzonazione sia dei lavoratori che dovranno invece occuparsi anche di eventuali co-pro che potrebbero essere assegnati e anche per conoscere poi quella che sarà definitivamente l'organigramma della struttura per raggiungere gli obiettivi che si era prefissato, che sono determinati nella delibera Cipe, gli obiettivi di firmare gli APQ entro giugno per far ripartire poi tutta la macchina della ricostruzione. Il nostro obiettivo è quello di tutelare i 218 lavoratori perché questo abbiamo sempre detto che è un accordo ponte, un accordo transitorio proprio per arrivare a trovare una collocazione giusta per tutti i lavoratori della protezione civile, per trovare anche le risorse secondo quello che è l'impegno e facciamo appello anche a quello che è stato l'impegno della delegazione parlamentare di riuscire ad ottenere quel famoso 4% sulla delibera Cipe che permetterebbe di finanziare anche le altre unità lavorative. Ma i nodi da sciogliere sono ancora molti a partire dai lavoratori che appartengono alla categoria protetta e quei lavoratori che attualmente non beneficiano degli ammortizzatori sociali e che quindi sono senza reddito. Ci siamo posti il problema dei 43 lavoratori che resterebbero senza tutele perché resterebbero senza aspi, mini aspi e nel reddito. Per cui dobbiamo trovare un altro tavolo, un accordo per tutelare anche questi lavoratori che resterebbero scoperti.